Per quali ragioni un ragazzo dopo la terza media sceglie la formazione professionale? Credo che il motivo principale per cui una persona scelga la formazione professionale sia proprio la sua forte connotazione con il mondo del lavoro. Sostanzialmente i nostri percorsi di istruzione e formazione professionale hanno una durata di base di tre anni, durante i quali i ragazzi si avvicinano concretamente a quello che è il mondo del lavoro, sia attraverso l'utilizzo di una didattica che è molto concentrata sul laboratorio, quindi già sul fare durante le ore di lezione, sia attraverso percorsi di alternanza vera scuola, formazione, lavoro. Nei percorsi già al terzo anno una grossa parte delle ore di formazione vengono dedicate a un'esperienza di stagio in azienda, che di solito è anche un pochino il nostro trampolino di lancio verso poi un proseguo, un'assunzione, un tirocino extracurriculare o addirittura un'assunzione, un apprendistato seguente. E addirittura negli ultimi anni, attraverso i percorsi invece in modalità duale, i ragazzi hanno già l'opportunità durante i tre anni di percorso di formazione di lavorare in azienda, quindi o tramite un contratto di apprendistato di primo livello o attraverso un'alternanza così chiamata rinforzata, grazie alla quale i ragazzi tutte le attività più professionalizzanti le svolgono e le imparano direttamente in azienda. Un altro motivo sicuramente è quello che riguarda la presa in carico che le nostre agenzie hanno e fanno con questi ragazzi. Quasi tutte ormai le agenzie di formazione professionale piemontesi sono accreditate per i servizi al lavoro. Di conseguenza i nostri ragazzi vengono seguiti dall'orientamento professionale, quindi da una fase in cui devono ancora scegliere, a una fase di studio e vengono anche seguiti per quello che è il loro inserimento nel mercato del lavoro successivo al termine del percorso. I nostri centri sono sempre aperti e sono rivolti appunto non esclusivamente ai nostri ex allievi ma sicuramente loro possono ritrovare persone con cui hanno studiato, persone che le conoscono molto bene e che possono favorire il loro inserimento in azienda. Il fatto è che oggi il nostro sistema di istruzione e formazione permette comunque di fare tramite la formazione professionale una scelta che poi può riportare nel mondo dell'istruzione. Al termine di una qualifica triennale i ragazzi possono interrompere perché magari sono soddisfatti del percorso, del bagaglio di competenze che hanno acquisito. Possono specializzarsi attraverso dei quarti anni, attraverso dei percorsi FTS che permettono addirittura l'inserimento negli istituti tecnici superiori negli ITS o possono tornare nel mondo della scuola, ovviamente in linea con quello che hanno studiato durante la qualifica.